Si può scoprire di più di una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Quanto mi piace questa frase, e ce n'è anche un'altra che mi piace tanto, ma te la citerò più avanti nel video. Adesso riflettiamoci insieme un attimo. Cosa impedisce ad un adulto di giocare? Cosa? Le convenzioni sociali? Il confronto sociale? Il fatto che se un adulto gioca o è con i propri figli o è perché è infantile? Proviamo a mettere per un attimo da parte queste sciocchezze e pensiamo piuttosto a quanto sia importante nella vita di ciascuno di noi l'attività del gioco. Anzi, andiamo persino oltre. Anche se sembra strano e fuori luogo, ti assicuro che ci si può anche divertire e apprendere nel proprio contesto di lavoro. Ma dobbiamo fare le dovute precisazioni. Se hai l'interesse e la curiosità di arrivare fino alla fine di questo video, hai trovato proprio quello che fa al caso tuo. Il tema di oggi è la gamification. M'hai sentita nominare? Nulla di cui preoccuparsi. Rimediamo subito. Qui è Andrea Giacunta che parla. Mi occupo di psicologia del lavoro e risorse umane. Temi che se rientrano tra i tuoi interessi, beh, chi aspetti a mettere un bel like al video per supportare il canale e a iscriverti? Senza indugiare oltre, andiamo a noi, perché oggi parliamo di lavoro e giochi per adulti. Non è come sembra, posso spiegare. La gamification è una di quelle cose tanto interessanti quanto abusate. Possiamo tradurla come fare gioco, nel senso di trasformare qualcosa in un gioco, soprattutto qualcosa che normalmente di gioco ha ben poco. Motivo per cui spesso si parla di gamification per rendere i giocosi un'attività o un contesto normalmente seri, noiosi, seccanti, insomma un vero mortorio da evitare. Cosa che non vorresti mai fare di tua spontanea volontà. Per capirci al volo ti riporto subito qualche esempio molto diffuso di gamification. Attenzione però, ci sono diversi tipi di gamification. Quella di cui voglio parlarti non è esattamente questa che ti sto per descrivere adesso, ma lo vediamo tra breve. Mi vengono in mente quelle app che misurano il tempo che hai trascorso al tuo telefono, magari tracciando la tua attività in percentuale. In totale oggi è trascorso 5 ore al cellulare, di cui il 15% su Facebook, il 47% su Instagram e il restante 38% a mettere like a video di Andreggia Quinta. Insomma, sta roba qui, capito? No, non è questa la gamification. Gamification è, in questo caso, quando meno usi il telefono e più migliorano quindi le tue performance, più aumenta il tuo punteggio, vai a livello successivo e magari l'app ti premia persino con un badge di gratificazione. O ancora quelle app che misurano quanto bevi o quanto cammini nell'arco di una giornata. E anche queste, allo stesso modo, ti danno dei premi in base alle tue performance, sei migliori o vai peggiorando e quindi dei feedback. E così, tante altre soluzioni. Escludendo i giochi, chiaramente, basta pensarci un attimo e sicuramente troverai sul tuo smartphone delle app di questo genere che hanno delle classifiche, dei punteggi, dei livelli che ti fanno scattare per rendere appunto attività noiose e normalmente serie. Tieni d'occhio quanto bevi, tieni d'occhio quanto cammini, tieni d'occhio quanto usi lo smartphone. Più giocose e più divertenti. Chiaramente la gamification non si usa solo con le app, perché ci sono tante altre attività analogiche che sfruttano le meccaniche del gioco. Banalmente, pensa alla classica raccolta punti che si fa al supermercato o al distributore di carburante, che più acquisti fai, più sei vicino ad ottenere un bonus, un gadget o un premio. O ancora, pensa a quei locali che mettono il tuo nome all'interno di una classifica sulla navagnetta nell'ingresso, perché sei riuscito a divorarti il loro panino classico da 5 kg di manzo, in meno di 60 minuti, stile man vs food. Che divertimento ci sarebbe a fare tutte queste attività, a parte mangiare che è di per sé un'attività divertente. Ecco, normalmente nessuno. Ma per tutto il resto, è proprio in questi casi che entra in gioco, scusate il gioco di parole, la gamification. Perché applica le meccaniche del gioco e attiva degli specifici meccanismi psicologici molto interessanti. Ma questi li vediamo tra breve. Resta con me fino alla fine del video per capirne di più. Wow 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 wow, frena un attimo. Dato che parliamo di gamification e di gioco, ci siamo mai chiesti che cosa sia un gioco? Quello che si fa da bambini ne è un valido esempio, quando si gioca soprattutto a far finta di. Ma ci sono tante tipologie di gioco, tanti studi, tante teorie, tanti nomi di psicologi illustri che hanno studiato il gioco. Al punto che potremmo davvero farne un video a parte, ma siccome non è il momento di annoiarci dietro a Freud, Piaget, Vygotsky e compagnia bella, piuttosto parliamo di che cosa sia un gioco. In pratica. Perché questo potrà aiutarci a capire di più come viene applicata e usata la gamification. Generalmente possiamo identificare quattro caratteristiche principali che accomunano ciascun gioco. Gli obiettivi, cioè lo scopo del gioco, le sue finalità e cosa sia necessario fare per ottenere la vittoria. Ad esempio, scopo degli scacchi è fare scacco matto al re avversario, anche a costo di sacrificare tutti i due pedoni, o Roe Weasley sul suo cavallo pur di arrivare alla pietra filosofale. Le regole, ovvero i limiti entro cui il gioco si muove, cosa si può e cosa non si può fare per raggiungere l'obiettivo finale. Ad esempio che sasso batte forbici, forbici batte carta. Il sasso uccide Lizard, Lizard avvelena Spock, Spock rompe le forbici, le forbici decapitano Lizard. E come è sempre stato, il sasso rompe le forbici. Citazione per gli intenditori. Il sistema di feedback, cioè quell'insieme di indicatori che permettono di capire quanto si è vicino o distanti dall'obiettivo finale, come per esempio la barra di avanzamento o il punteggio. A risico corrisponde a quanto tu si è vicino a vincere la partita in base a che so alla quantità di territori che hai conquistato. E infine il fattore di volontarietà, ovvero la consapevolezza che si sta giocando e che si può uscire dal gioco in qualsiasi momento lo si voglia. Come quando a nascondino vieni beccato per la ventordicesima volta di fila e in un modo di orgoglio per difendere l'ultima bricola di autostima che ti ritrovi, decidi che è arrivato il momento di terminare la partita e piantare i naso tutti i tuoi amichetti. Che ricordi! Come vedi, nonostante abbia preso ad esempio quattro giochi molto 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 diversi tra loro, tutti e quattro hanno insieme quelle stesse caratteristiche. Quindi, ora che abbiamo capito quali siano gli elementi che costituiscono un gioco, passiamo alla parte più importante per capire come la gamification li mette in pratica in un contesto di formazione per adulti, quindi in un contesto di lavoro. Dobbiamo anzitutto fare necessariamente una precisa distinzione. Dicevo prima che c'è un certo tipo di gamification di cui vorrei parlarti e che la gamification è tanto interessante quanto abusata. Partiamo da quest'ultimo punto. Da quando questa pratica ha cominciato a diffondersi tra il 2010 e il 2011 è stata spesso applicata per le sue meccaniche di gioco, quelle che ti dicevo prima, obiettivi, regoli, feedback, per rendere divertente e leggero un contesto altrimenti serio. Ormai questo l'abbiamo capito. Intendiamoci, non c'è nulla di male nel creare classifiche o sistemi di punteggio, ma dobbiamo sempre chiederci a quale scopo? Divertire per alleggerire o creare un metodo per apprendere? Dato che spesso la scelta è stata quella dettata dall'intrattenimento e quindi da rendere più coinvolgente qualcosa di altrimenti noioso e serio. La gamification è stata sfruttata molto e talvolta anche molto male, proprio esasperando questi aspetti ludici e giocosi, a discapito invece dell'aspetto forse più interessante, quello appunto formativo. A questo punto lo psicologo del lavoro che è in me chiede Se voglio usare la gamification, qual è lo scopo ultimo di questa attività? Se vogliamo guardare le performance basate sui numeri e quindi interagire in un contesto serio con divertimento, allora possiamo creare i sistemi appunti, le classifiche, i livelli, le task, gli obiettivi e così via, quello che abbiamo detto finora. Ma se invece vogliamo tenere in conto le qualità delle persone, i loro valori, le loro capacità, anche i potenziali, e cioè non hanno ancora avuto modo di esprimerla adeguatamente con se stessi e con gli altri, il fattore chiave a cui dobbiamo badare non sarà più il divertimento, bensì l'apprendimento, ovvero fare formazione. Avrei sicuramente sentito dire che si impara meglio giocando. Ed è proprio così. La gamification, quella applicata ad esempio dagli psicologi del lavoro, è una vera e propria attività di formazione. Dovremmo aprire un capitolo enorme per parlare di formazione in ambito organizzativo e di lavoro, ma per sintetizzare cerco di arrivare al punto. Quando si fa uso della gamification per fare formazione in azienda in ambito organizzativo con scopi di apprendimento, questa deve essere ben distante dal fare intrattenimento o peggio, per controllare i dipendenti. Ebbene sì, perché può capitare talvolta che l'azienda richieda al formatore o allo psicologo del lavoro di creare un sistema di gamification allo scopo però di monitorare le performance dei lavoratori con sistemi appunti o classifiche. Quindi da questo momento separiamo nettamente la gamification usata per divertire o come in quest'ultimo caso per controllare, dalla gamification per apprendere e fare formazione. Ed ora parliamo proprio di quest'ultima. Abbiamo detto, e ormai ne avrei piene le tasche, che con la gamification puoi creare un sistema appunti e una classifica per monitorare le tue performance e raggiungere un certo obiettivo. Ma puoi anche usarla per sviluppare delle competenze di vendita o per comunicare efficacemente in gruppo con i clienti. Oppure per far emergere chi possiede delle doti di leadership o manageriali. Pensa, puoi persino cimentarti con i LEGO. Non scherzo, è proprio una pratica formativa di gamification che prende il nome di LEGO Serious Play. Se vuoi approfondire comunque ti lascio qui sotto in descrizione tutte le fonti. Queste ed altre soluzioni rappresentano delle vere e proprie attività formative, appunto, dettite quindi allo sviluppo delle potenzialità individuali e del gruppo, come anche al benessere organizzativo e dell'ambiente di lavoro, ma più in generale orientate da obiettivi di apprendimento e il tutto giocando, ovvero esprimendo se stessi e il proprio punto di vista attraverso il gioco. Se finora abbiamo parlato di quali siano le caratteristiche e le meccaniche che rendono un gioco tale, quali sono invece i meccanismi psicologici che si innescano nel gioco e che la gamification applica di riflesso? Grazie per la domanda squisitamente intelligente. Da questo momento parlo proprio da psicologo, quindi se non è più di tuo interesse il video, possiamo serenamente salutarci qui e rinviarci al prossimo. Non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale. Per tutti gli altri cominciamo dal primo meccanismo psicologico che si innesca nel gioco. Ti parlo dell'apprendimento, e ancora meglio, dell'apprendimento esperienziale. Anche questo vasto tema da dover trattare brevemente. Te lo spiego con una semplice metafora. Hai mai visto un'alpaca? Magari su YouTube in uno di quei video dove saltellano carini e coccolosi per i campi. Se hai avuto la possibilità di vederli da vicino, hai sicuramente fatto un'esperienza ben diversa dall'averli visti attraverso uno schermo. Hai avuto impressioni visive, hai sentito odori, sensazioni tattili, molto concrete e tangibili, che ti hanno permesso una conoscenza più diretta di questi animali così... 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 In caso contrario, resti anche tu, come me, ad una conoscenza superficiale, filtrata. Ecco, l'apprendimento funziona allo stesso modo. Un conto è l'osservazione da lontano. Un altro è mettere le mani in pasta, quindi immergendoti nell'esperienza concreta, che stimola in modo diverso le tue sensazioni, le tue impressioni, i tuoi pensieri, insomma, il tuo punto di vista. La gamification ti permette di fare questo. Attraverso il gioco ti immerge in una realtà costruita apposta per essere il riflesso di quella che vivi normalmente. Per farne un'esperienza diversa, per innescare una nuova consapevolezza, un nuovo punto di vista, che quindi ti permette anche di osservare cose che prima magari non riuscivi neanche a vedere. Non parlo di cose tangibili come un oggetto, ma di dinamiche. Perché tutto ciò? Perché gli interventi formativi tramite l'esperienza consentono di individuare nelle persone coinvolte quelle attitudini latenti, quelle caratteristiche che possono anche esprimersi in modi diversi, migliorando le capacità possedute, così come modificare o acquisire atteggiamenti rispetto a se stessi, agli altri, al punto di vista esterno e del mondo. In sostanza, con il gioco ci si conosce meglio. Come secondo meccanismo psicologico caratteristico del gioco, quindi della gamification, per citare Winnicott, giocare è un'esperienza creativa. E l'espressione delle creatività è solo uno degli aspetti più superficiali del gioco e quindi della gamification, ma allo stesso tempo è uno tra i più interessanti. Quando giochiamo, entriamo nell'ottica di manipolare una realtà che non è propriamente la nostra, quella a cui siamo quotidianamente abituati, ma è una realtà parallela e temporanea che ci permette di esprimere degli aspetti di noi che altrimenti in condizioni normali non si manifesterebbero, figurarsi in condizioni di lavoro. Non parlo ovviamente di fare gli scemi saltellando di qua e di là per la stanza, ma di renderci più disposti ad esprimere il nostro punto di vista sul contesto che ci circonda e quindi anche sulle relazioni che viviamo al lavoro con i nostri colleghi o i nostri capi. E fare questo in un contesto circoscritto è protetto, qual è l'attività formativa. Permette anche di confrontarsi in modo più diretto e spontaneo seguendo le linee guida indicate dal formatore o psicologo del lavoro che sia, il quale dette confini entro cui muoversi, i temi da trattare, le problematiche da far emergere, sempre orientandosi all'obiettivo del benessere organizzativo. Certo, con alle spalle un'adeguata analisi della domanda, del contesto, della committenza, robe da psicologi. Cioè, in altre parole, grazie alla gamification e all'atto creativo del gioco, si è portati molto più facilmente ad esprimere se stessi in funzione del contesto di lavoro. E questa cosa, se ben gestita, può portare effetti positivi per tutti. Dai, resisti, ce l'abbiamo quasi fatta. Parliamo adesso dell'ultimo fattore psicologico che entra in gioco con la gamification. Parliamo quindi di engagement, un tema molto particolare e interessante da capire. Anche qui vasto tema da trattare in breve tempo, ma per farlo te lo spiego con un esempio pratico. Se guardi un film fino alla fine o una serie tv fino all'ultima puntata, se leggi un libro fino all'ultima pagina o hai completato al 100% un videogioco, si è seguito la lezione di un insegnante con interesse o hai seguito questo mio video fino a questo momento, e perché queste attività hanno creato con te un legame, una connessione, una relazione. Non stiamo parlando della retention, ovvero quanto la tua attenzione sia legata a un certo contenuto, ma ad un processo più che di un meccanismo per il quale, in un certo senso, ti affezioni all'attività che stai svolgendo e ne vuoi ancora e ancora sperimentare. In altre parole, l'engagement è coinvolgimento attivo e il gioco riesce facilmente a creare questa connessione, perché ci permette di immergerci in un'esperienza diversa da quella a cui siamo normalmente abituati. E per questo vogliamo sperimentarla con tutto ne stessi, perché privata, intima, molto riflessiva per certi versi, ma facendoci divertire. Una gamification ben applicata agevola questo processo di apprendimento, perché una volta creata la connessione, la relazione con noi, risulta anche più semplice generare una nuova consapevolezza su di sé, gli altri, il mondo che ci circonda, talvolta aprendoci anche gli occhi su cose che non riuscivamo a vedere. Tema molto interessante questo dell'engagement. Ti invito a proposito a guardare le fonti che ti ho lasciato sotto in descrizione, anche perché non può bastare quello che ti ho detto finora per capirlo fino in fondo. Ed è ora arrivato il momento di citarti l'altra frase che tanto mi piace sul gioco. Il gioco sta al bambino, come il lavoro sta all'adulto. A te le riflessioni in merito. Bene, credo che con questo ti abbia parlato a sufficienza di che cosa sia e come funzioni la gamification. Ti ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video. Se ti è piaciuto fammelo sapere qui sotto con un bel like e un commento. Condividilo se conosci qualcuno a cui possa interessare questo argomento. E se a te invece interessano argomenti di psicologia del lavoro, risorse umane e mondo del lavoro, non dimenticare di iscriverti al canale. Io intanto ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!